Somma Lombardo, Somma Lombardo, te lo... Piazza Cipione, appuntamento tradizionale con la castagnata dello Ciclè Bassi, siamo in compagnia del Presidente. Presidente, allora una bella castagnata che ormai fa parte della tradizione, mi sembra che i sommesi rispondano bene, come ogni anno. Sì, questa qui è la ventinoesima castagnata che facciamo a Somma e riscuotiamo sempre un bel successo veramente, ci fa molto piacere organizzarla appunto per questo. L'attività dello Ciclè Bassi, anche in questo caso parliamo di un'attività da moltissimi anni sul territorio sommese, vediamo giovani leve pronte, tra poco li andremo a intervistare e a chiedere due cosettine anche a loro, però vedo che nella festa non ci sono solo le castagne, è una festa completa, salamella, vin brulee, vedevo da quelle parti. Vim brulee, patatine, insomma cerchiamo di fare delle cose tradizionali per mantenere appunto queste tradizioni. Il nostro Ciclè Bassi l'anno prossimo festeggia i 50 anni di affiliazione alla Federazione Italiana Sport Invernali, un traguardo che mi rende molto orgoglioso perché io sono presidente da quasi 40 anni, sono orgoglioso di aver mantenuto questa associazione ad alti livelli in provincia per così tanti anni. Lo sci a Somma è stato portato da Lassi perché quando abbiamo cominciato noi a Somma c'era il calcio, pallavolo, ciclismo, il CAI per l'amore di Dio, l'istituzione e nient'altro. Poi siamo entrati noi, abbiamo cominciato a portare migliaia di persone a imparare a sciare, a far le gare e siamo sempre stati veramente come ho detto prima a un buon livello in provincia. Dicevamo campionessa? Provinciale. Provinciale. Chiaramente quanto tempo hai che fai sci? Saranno 13 anni. 13 anni, ne hai? 17. Quindi praticamente hai iniziato subito, subito per forza. Cos'hai provato a tiri del fatto che sei campionessa? No, no. Meglio stare... Un bubile. Sì. Di fianco a te invece abbiamo la campionessa Sommese. Sommese. Sei la più brava di Somma a sciare. Sì. Orgoglio. Sì, sì. Molte parole, non sembra una risposta chiusa, non è con le crocette. E di qua invece un futuro campione. Sì. Speri di diventare campione? Sì. Spero di diventare campione. Ma da quanto tempo? Sei anni. Da sei anni fa i sci? È il prossimo campione? Sì, sì. Dubbiamente c'è una grinta che mi fa molto piacere che sia così. E come gli altri, purtroppo c'è un altro ragazzino che fa la volo oggi. È una bellissima speranza e ho molta fiducia in questo ragazzino. E poi ne abbiamo ancora. Un totale della nostra squadra di giovani è composto da una quindicina, anche una ventina di piccolini. E questa è una bella cosa. Si allevate campioni domani. Sì, sì. Abbiamo anche i master, abbiamo i senior, maschile femminile. Però il mio piacere più grande è vedere questi bambini attaccati all'assi e che stanno andando veramente bene. Emma, eccola qui. Due parole alla segretaria storica dello sci-club. Avvicinati un po' a me. Cosa c'è qui sotto? Niente, neanche una parola. Castagne. Segretaria non parlare. Le castagne calde, buone. Le calda rosse. Possiamo vederle, facciamo un'inquadraturina veloce e veloce. Somma Lombardo, Somma Lombardo, Tiro.